Armando, ma quando è che smetterai di raccontare a frottole che sei un agente internazionale? Ma smettila, dai, ti prego. Ma perché dici così? Ma perché secondo me è una cosa giusto per far credere alle persone che tu sei professionale, eccetera, eccetera. Cioè, ce ne stanno una cifra di agenti immobiliari, né? Ah, questo indubbiamente ce ne stanno una cifra e probabilmente ci saranno anche di più bravi di me. Però che io sia internazionale lo sono, sono anche stato all'estero, ho il patentino canadese per fare l'agente immobiliare e per ottenerlo ho fatto 12 esami. Quindi sicuramente ne so, soprattutto nel Nord America. Poi da quando sono rientrato in Italia e sono entrato in EXP Realty Italia, posso dirti che ho cancellato tutti i confini. Prima operavo sul mio quartiere, al massimo sulla città, adesso mi allargo a tutta l'Italia, anzi a tutto il mondo, perché abbiamo 90.000 agenti immobiliari che come me sono nella stessa comunità di EXP. Siamo formati tutti allo stesso modo e ci teniamo in contatto con il metaverso. Se ho bisogno di un agente immobiliare a New York ci metto un attimo a trovarlo, ma così pure a Santo Domingo, in Messico, in India, in Nuova Zelanda, nel Sudafrica, in Francia, Spagna, Inghilterra, dovunque tu volessi comprare casa. Ah, cioè, scusa, e come fai? Cioè, siete tutti agenti immobiliari pronti a invadere l'Italia? Non ho capito. No. Allora, devi capire che noi siamo presenti come EXP in tutti quei paesi dove l'Italia piace. Molti stranieri di questi paesi cercano casa in Italia, addirittura alcuni hanno già un immobile in Italia e lo vogliono vendere. Poi, tra l'altro, abito e vivo a Roma in una città che è internazionale già di suo. Roma è diventato un po' il centro, dal punto di vista internazionale, anche del turismo. Quindi, essere un agente immobiliare internazionale fa sì che chiunque si affida a noi e ha una casa da vendere raggiunga un numero di persone elevatissimo anche all'estero, anche grazie ai colleghi miei di EXP che, stando all'estero, possono cercare un acquirente per l'immobile che sto vendendo. Ah, e come al solito mi sono sbagliato.